Un problema nel problema. Questo sarà rappresentato dal Rally Dakar nel 2023 e da tutti i coraggiosi partecipanti. Più di 800 piloti e navigatori viaggeranno da una parte all'altra dell'Arabia durante l'arduo viaggio, che si svolgerà dal 31 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023. L'Arabia Saudita ospiterà il rally ride più famoso al mondo per il quarto anno consecutivo durante questo periodo. Contrariamente alle precedenti edizioni, la carovana della Dakar percorrerà infatti l'intero paese, non solo la parte occidentale della penisola arabica. Uomini e mezzi inizieranno invece il loro viaggio a ovest, sulle coste del Mar Rosso, e lo concluderanno a Dammam, città sulla costa orientale della nazione, che si affaccia sul Golfo Persico. Tra questi due estremi, distribuiti su 15 giorni e 14 tappe, più di 8500 chilometri di dune di sabbia, deserti desolati e aspre pietre aspetteranno i contendenti della Dakar 2023. La Dakar è il rally ride più conosciuto al mondo, anche se dall'edizione 2009 non si corre più in Africa. Prende ancora il nome dalla capitale del Senegal. Si tratta di una competizione fuoristrada aperta a diversi tipi di veicoli motorizzati, e gommati, disputata su distanze straordinarie, e della durata compresa tra i 12 e i 15 giorni. La Dakar è una gara per tutti i tipi di veicoli in grado di sopportare le difficoltà che presenta il percorso. Nel corso degli anni, non è stato insolito vedere auto incredibilmente stravaganti schierarsi coraggiosamente ai blocchi di partenza. Auto, moto, quad, SSV e camion hanno tutti partecipato alla Dakar. È una gara che mette alla prova sia le capacità degli uomini in gara, che devono confrontarsi con un ambiente ostile e tutte le sfide legate alla necessità di riparare velocemente, e autonomamente, eventuali problemi tecnici, sia le innumerevoli forature che i loro mezzi subiscono durante le varie tappe, così come le capacità dei veicoli, che devono offrire prestazioni mostruose su terreni accidentati e con temperature proibitive. Guarda i momenti salienti della gara del 2023, che vengono trasmessi su Red Bull TV alla fine di ogni giornata, se vuoi vedere di persona di cosa si tratta. Se vuoi essere competitivo in una gara come la Dakar, avere conoscenze di riparazione di base e abilità di guida potrebbe non essere sufficiente. Tra le dune del deserto è fondamentale avere l'intuito necessario per individuare la strada giusta da seguire mentre ci si sposta a velocità insondabili attraverso regioni e territori privi di punti di riferimento evidenti e riconoscibili. Questo perché spesso è necessario liberarsi da un labirinto di tracce su superfici insidiose. Anche le capacità di navigazione sono cruciali. Non ci sono piste come in Formula 1 e neppure spazio per shakedown o ricognizioni come nel WRC alla Dakar. Siamo sulla linea di partenza, pronti a correre centinaia di chilometri cronometrati e consapevoli che le uniche cose che ci porteranno al traguardo sono il nostro affidabile GPS e le indicazioni del roadbook, che ci viene dato poco prima della partenza di ogni fase. Quest'ultimo, però, potrà essere tagliato solo una volta raggiunti tutti i waypoint elencati nel suddetto roadbook, in caso contrario, si tradurrà in una penalità di tempo che potrebbe impedirci di impegnarci in una battaglia di successo. Tutti i coraggiosissimi amatori e appassionati che, ogni anno, si schierano al via della corsa al fianco dei più illustri campioni delle due e quattro ruote. Ne sarà senz'altro escluso. La Dakar è una gara tanto estrema quanto lo è, popolari, basti pensare che all'apertura dell'edizione 2022 hanno partecipato oltre 800 persone provenienti da 68 paesi diversi. Thierry Sabine, un brillante esploratore francese, è l'uomo dietro a tutto. Nel 1977, durante un rally ride, rimase disorientato tra le dune del deserto del Tenere e, di conseguenza, ebbe l'ispirazione per costruire la sua. Solo due anni dopo, nel 1979, l'idea di Sabine divenne realtà quando la prima edizione della gara iniziò a Parigi, in Francia, e si concluse a Dakar, in Senegal. Questo evento è noto come Parigi-Dakar ed è stato il precursore del rally di Monte Carlo. Il percorso della gara ha subito una serie di modifiche nel corso degli anni a causa di fattori storici, ma soprattutto economici, ma fino al 2007 la Dakar era ancora un prodotto del continente nero dove ha avuto i suoi inizi. La Dakar, invece, ha lasciato l'Africa nel 2008 e si è trasferita in Sud America fino al 2019 dove trascorrerà parte della sua storia sulle terre di Argentina, Cile, Perù e Bolivia dopo aver attraversato le Ande e il deserto di Atacama. All'epoca, alcuni dei paesi che avrebbero dovuto ospitare quell'allora indiscussa edizione stavano vivendo tensioni politiche, e persino minacce terroristiche. Last but not least, la gara del 2020 ha segnato l'inizio di un terzo significativo capitolo del passato della Dakar, quello ambientato tra le dune di sabbia dei deserti dell'Arabia Saudita. Il che è esatto, l'omonima gara, la Dakar, non è poi così vicina. Ma che, forse più delle intriganti edizioni sudamericane, è riuscita a riportare la corsa su un percorso più affine a quello che caratterizzava le edizioni originarie, pur mantenendo pressoché inalterato lo spirito avventuroso che l'ha sempre contraddistinta. Per l'edizione 2023, più di due settimane. Il prologo della gara si svolgerà infatti sabato 31 dicembre 2022, mentre l'arrivo è fissato per domenica 15 gennaio 2023. La Dakar 2023 prevede 14 tappe, con l'ormai consueto rest day che cade il 9 gennaio, 2023. Il cronometro conterà, solo, 4706 dei restanti 8549 chilometri, per un totale di 8549 chilometri è vero che non l'intero percorso conta per la classifica, come in altre competizioni di rally. Uomini e mezzi dovranno superare alcuni tratti di trasferimento prima di entrare in tappa e iniziare la vera e propria cronometro. Inutile dire che i piloti e i membri del team hanno bisogno di un posto dove riposare poiché questa gara dovrebbe durare più di due settimane. È qui che entra in scena il bivacco, la «città» mobile che accompagna la Dakar lungo tutto il suo percorso e fornisce ristoro sia ai partecipanti che ai loro mezzi, pronti per essere sottoposti alle cure dei meccanici una volta terminate le fatiche quotidiane. Il riposo può sembrare una parola forte quando si descrivono arrivi al tramonto seguiti da partenze all'alba, ma lo spirito inconfondibile della Dakar si estende anche a questo. Le coste del Mar Rosso serviranno come punto di partenza per l'iterazione del 2023 del rally ride più duro del mondo, che porterà i suoi partecipanti attraverso la Dawazir Valley a sud, oltre le montagne a est, attraverso il quarto vuoto, o Rub al-Khl in arabo, il deserto di sabbia più grande del mondo, per tre giorni estenuanti, e infine a Dammam sulla costa del Golfo Persico. Dall'edizione 2014 non c'è stato un viaggio così lungo e gli organizzatori hanno promesso sfide difficili anche per i concorrenti più esperti. Tenendo gli occhi puntati sul presente, i nomi del Catarino, e non poco nasserà la tia, dello spagnolo Carlos Sainz, padre del ferrarista Carlos Sainz, dell'australiano Tobi Price e dell'austriaco Matthias Walkner Spicca. Guardando indietro, i nomi di piloti del calibro del francese Didier Auriol, del finlandese Ari Watanen, dell'italiano Eddie Aurioli e dell'italiano. Senza voler offendere gli illustri fenomeni delle due e quattro ruote citati in precedenza, c'è un nome che, quando si parla di Dakar, spicca per importanza su tutti gli altri, Stéphane Peter Hansel, vero eroe dei due mondi. Il francese, detto anche «Mr. Dakar» ha avuto successo 14 volte, vincendo 6 volte in moto, il primo successo è arrivato nel 1991, e 8 volte in macchina, l'ultima vittoria è avvenuta nel 2021. Data la difficoltà di guidare un veicolo con sole due ruote e di gareggiare alla Dakar, è molto probabile che Peter Hansel non si penta del tempo trascorso in sella a una moto. Attualmente i piloti attraversano il deserto su motociclette con motori a quattro tempi da 450 cm3, ovviamente dotati di enormi ammortizzatori, pneumatici riempiti di mousse per evitare forature ogni 35 metri e enormi serbatoi di benzina. Per i motociclisti, la navigazione è ancora più impegnativa perché non possono dipendere da un copilota e devono navigare da soli spostandosi rapidamente tra i waypoint nel tentativo di battere il record di tirocinio. In molti credono che questo sia il modo più autentico e vero di avvicinarsi alla Dakar perché è proprio così che Thierry Sabine gareggiò in quel rally ride del 1977. Alla Dakar sta per arrivare una novità normativa di rilievo. Gli organizzatori della corsa hanno infatti stabilito che chi arriverà primo in una tappa e poi dovrà prendere il comando nella successiva riceverà un premio in termini di tempo per KM quest'anno, ad esempio, il pilota che percorrerà i primi 200 chilometri della tappa riceverà un bonus di 1 secondo 5 al KM, che equivale a 300 secondi, con il secondo che lo riceverà pari a 1 secondo al KM e sarà quest'anno, invece, il vincitore di una tappa, costretto per regolamento ad aprire la tappa il giorno. Successivo, ha perso molto tempo a cercare la strada giusta, trovata più facilmente dagli avversari in base ai propri errori. Tutto questo, però, non sarà riservato esclusivamente ai camion, i mastodonti del deserto. I camion che gareggiano alla Dakar sono veloci, imponenti e inarrestabili, e con una certa prepotenza entrano nei piani alti della classifica delle auto più incredibili che il mondo delle corse abbia mai visto. Ignacio Casale e i suoi Tatra sono tra i grandi favoriti per la vittoria assoluta perché hanno già vinto la Dakar in quad e sanno come sfruttare il «vuoto di potere» creato dalla resa dell'inarrestabile esercito Kamaz. D'altra parte, la presenza del cileno tra i camion fa pensare che potrebbero esserci diversi piloti in lizza per il primo posto tra i quad, una classe che offre costantemente emozioni e battaglie a fianco dei lightweight prototypes, gli SSV estremamente veloci e agili. Quest'ultimo gruppo comprende i giovani artisti americani Seth Quintero e Mitch Guthriegr, oltre a Francisco, Caleko, Lopez, Cristina Gutierrez e altri. In particolare con la Dakar, Quintero ha un rapporto molto trasparente. Il promettente atleta americano ha vinto 11 tappe con l'aiuto del suo navigatore Dennis Zenz nella gara del 2021. Se non fosse stato per quel malfunzionamento meccanico che ha brutalmente eliminato i due dalla contesa per la vittoria di categoria già al dei due, sarebbe stato un vero e completo successo per i due. Ultimo ma non meno importante, dobbiamo includere la categoria che è stata aggiunta a partire dalla Dakar 2020. La Dakar Classic è stata introdotta alla prima iterazione, che si è tenuta tra le dune dell'Arabia Saudita e ha onorato i veicoli che hanno contribuito a plasmare la storia delle migliori, noto rally ride nel mondo. Volkswagen Maggiolino, Fiat Panda e Porsche 959 sono solo alcuni dei veicoli più riconoscibili della gara che gareggeranno nell'edizione 2023, anche se non gareggeranno per il titolo assoluto o percorreranno lo stesso percorso del piano degli organizzatori per il contemporaneo Mostri del Deserto. Non pensare, tuttavia, che il loro viaggio sia piacevole, le 89 vetture iscritte alla Dakar Classic percorreranno complessivamente 6.542 chilometri, di cui 3.350 cronometrati. Le previsioni indicano che la competizione per il primo posto sarà probabilmente ancora più serrata di quanto non fosse nell'edizione 2022. Quando si tratta di favoriti, va menzionato Nasser Alattia. Il Catariota, che ha vinto l'anno scorso guidando una Toyota Hilux ridisegnata, ha dimostrato di essere molto veloce tra le dune per tutta la sua carriera con quattro vittorie, che lo hanno essenzialmente visto maturare. Sebastian Loeb, l'alsaziano arrivato secondo nel WRC nel 2022 alla guida del suo Buggy Hunter, dovrà vedersela con Alattia, che non sembra affatto interessato a cedere il trono. I tre cardini dell'esercito Audi, posizionati ai nastri di partenza in cima alla rinnovata Audi RS Q e Trone 2, i prototipi elettrici dotati di range extender, sono senza dubbio tra questi ultimi. Dopo i problemi tecnici riscontrati lo scorso anno con una vettura d'esordio all'avanguardia, Carlos Sainz, lo svedese Mattias Ekstrom, un volto familiare della WRX, e il leggendario Stefan Peter Ansel vorranno davvero tornare nella mischia. Guardando indietro, la gara per la vittoria indiscussa è più aperta che mai. Si può guardare alla classifica dell'edizione 2022 per provare a dare una risposta, proprio come è stato fatto per le automobili. Sam Sunderland, pilota di sua maestà lo scorso anno, ha battuto il suo terzo record personale, regalando al marchio Gas Gas la sua prima vittoria in assoluto, e ha prevalso sui suoi tenaci ex compagni di squadra KTM. Sarà senza dubbio tra coloro che si contenderanno la vittoria totale. In realtà sono altre quattro le vittorie alla Dakar sotto le tende del factory team del marchio Mattigofen, Tubi Price, australiano, Nea Due, Mattias Valkner, austriaco, e Kevin Benavides, argentino, ciascuno con una vittoria. Da tirare fuori anche i nomi di Joan Bang Bang Barreda, Pablo Quintanilla e Adrien Van Beveren, oltre al giovane Daniel Sanders, vincitore della gara del 2022 che passerà alla storia. La Dakar avanza verso una sempre maggiore sostenibilità, proprio come numerose categorie dell'industria automobilistica. Infatti, l'Audi RS QA Tron, un prototipo elettrico con range extender, ha fatto il suo debutto in gara nel 2022, mentre quest'anno sia le auto che i camion hanno potuto utilizzare regolarmente i biocarburanti. I programmi della Dakar per il prossimo futuro sono piuttosto ambiziosi, a partire dal biennio 2024-2025 gli organizzatori prevedono un boom nella categoria T1U, a cui appartiene, per ora, solo Audi, mentre per il 2026 è previsto che la maggior parte dei piloti professionisti parteciperà alla gara con veicoli a basse emissioni. Non importa se si tratta di utopia, semplice ottimismo o pianificazione metodica e pianificata, beh, solo il tempo lo dirà. Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, lascia un commento e iscriviti al canale.